Inizio con la prima lezione su Hegel. È secondo me un compito arduo, perché dopo aver letto tante volte questo autore, continuo ogni volta alla lettura a scoprire cose nuove. Io l'ho sintetizzato, questa mia riflessione in questo scritto, che adesso leggeremo assieme e che si trova sul mio sito e può essere scaricato. Questo scritto si compone di due, anzi per essere sincero, è un lavoro che ha fatto un mio alunno tanti e tanti anni fa sui miei appunti e su uno scritto già preesistente, ed è composto in questo modo. Una parte superiore è la vita di Hegel. Poi sotto nelle note ci sono le riflessioni che si riferiscono agli sviluppi di questo pensiero. ora in riferimento a Hebert, Hebert una volta in riferimento a Marx, un'altra volta a Kierkegaard, un'altra volta a Schopenhauer, eccetera, eccetera. Ecco, io in un primo momento direi di leggere solo la parte superiore, quella cioè che ci presenta questa filosofia. Hegel oggi non è più di moda, perché purtroppo anche nella cultura ci sono le mode. Io non condivido la filosofia di Hegel, però Hegel nella sua filosofia ha delle intuizioni che sono meravigliose e ci permettono di arricchire il nostro pensiero, renderlo più elastico, anche valutando gli stessi errori della riflessione hegeliana, perché molto spesso anche questi giganti del pensiero, della storia della filosofia, rimangono in qualche modo prigionieri del loro stesso sistema e commettono degli errori che potrebbero essere banali, ma banali non lo sono. E forse non sono neanche errori, siamo noi che non riusciamo a cogliere per intero il loro pensiero e il loro sistema. Però, ripeto, è un modo per arricchirci, ma non un arricchimento fine a se stesso, perché sarebbe un arricchimento sterile, ma un arricchimento che ci permette di riflettere su ciò che ci circonda. Oggi non riflettiamo più. E infatti gli uomini, oltretutto in questa dimensione fatta di consumismo, di corsa, di voler sempre rifare, ricominciare da capo, si parla sempre di riforma, riforma, riforma all'infinito, su qualsiasi argomento. Si vuole sempre fare qualcosa di nuovo, si vuole stravigliare, però in questa corsa fannosa non si riflette più. Non si riflette più e il mondo è chiaramente, parliamo anche del mondo occidentale, in modo particolare, perché forse il mondo che soffre la fame da un punto di vista spirituale sta meglio di noi, come da un punto di vista umano. Noi invece viviamo in questa superficialità ormai cronica. Il filosofo ci aiuta a riflettere, a ritrovare certe verità che, permettetemi, ci sono, anche nella filosofia di Hegel, in quest'opera gigantesca, sotto un profilo concettuale, ci sono degli insegnamenti che sono meravigliosi. D'altra parte ci sono delle premesse pericolosissime, e le vedremo assieme, che, se non vengono valutate con particolare attenzione, possono essere causa di fatti storici, di scelte politiche, suicide. In ogni modo, proviamo a affrontare anche questo filosofo. Per quanto riguarda la vita, come al solito, valutate voi, voi sapete che era legato a Fichte, era legato a Schelling, poi alla fine si allontana sia da Fichte che da Schelling. Siamo nel 1770, legato anche a Rousseau, conosce molto bene l'opera di Kant, influenzato dalla rivoluzione francese, la sua più grande opera è l'enciclopedia delle scienze filosofiche, legato alla sua terra, alla patria, ritiene più che legittimo l'impostazione monarchica che vorrebbe a un certo punto riunire in uno stato forte e unitario la Germania. Allora, andiamo avanti, qui ci sono le premesse, eccolo qua. Hegel è critico del romanticismo. Il romanticismo era una filosofia dell'incompiuto, incapace di chiudersi un sistema poiché mai attuata del tutto. Era quello che definisce Hegel un cattivo infinito. Fichte procedeva per una retta, se vi ricordate, i vari io empirici che si impegnano per superare i non io e questa retta tendeva all'infinito. Schelling, d'altra parte aveva sostenuto che in fin dei conti la conoscenza veramente completa si realizzava in una sorta di misticismo, misticismo artistico. La filosofia si poneva per essere superata e poi addirittura nel secondo o terzo Schelling l'esperienza artistica viene sostituita dall'esperienza religiosa, dalla fede. Ma anche solo per un momento se ci fermiamo ai grandi nostri poeti, pensate per un momento Leopardi, pensate all'infinito, questo sprofondare nell'infinito, abbandonarsi all'infinito, ma è un infinito cattivo dice Hegel perché il vero infinito è ben determinato, conchiuso, fatto di passaggi che la ragione sviluppa nella loro concatenazione necessaria. Tuttavia vedremo che anche Hegel ha dei caratteri che si possono in qualche modo definire romantici. guardate però che questa scelta di Hegel è la forza evidentemente della sua filosofia, una filosofia alternativa sia Fichte sia Schelling ma è anche il punto debole. Hegel si distingue dunque dagli antiromantici per i mezzi che adopera ma non per il fine e per i risultati. ho detto un punto debole l'aspetto debole della sua filosofia ma per ora questo argomento lo rimandiamo. Vediamo quali sono i suoi rapporti con Kant. In Kant viene una radicale scissione secondo Hegel tra ciò che è fenomenicamente e ciò che deve essere secondo l'imperativo morale. Sia da un punto di vista teoretico sia da un punto di vista pratico secondo Hegel Kant è rimasto al di qua di tutto. Allora da un punto di vista teoretico fenomeno e no umeno inconoscibile. Perciò c'è anche la vanificazione di tutta la metafisica. Dal punto di vista pratico abbiamo un essere e un dover essere. se ci deve essere se si sente la necessità di un dover essere vuol dire che l'essere non è quello che dovrebbe essere. Allora l'essere non è quello che dovrebbe essere. Per cui c'è uno sforzo continuo per cercare di essere quello che si dovrebbe essere. Dall'altra parte il numero non è attingibile dunque dice Ega la canta tu sei rimasto adeguato di tutto. La tua filosofia non ha colto quell'unità invece che riuscirà a cogliere la mia. Vedete un'ultima stortura che è quella conclusiva dell'empirismo ossia che possiamo conoscere le cose non come sono realmente ma come appaiono questa era l'idea di Kant. Invece per Hegel reale razionale e morale reale sarebbe il numero razionale il fenomeno morale il dover essere di Kant si identificano. Guardate che questa affermazione è terribile ed è terribile perché se in un certo senso è una prospettiva e una posizione ottimistica d'altra parte voi capite che se tutto il reale cioè quello che si è realizzato e anche razionale e morale viene giustificata nella storia qualsiasi pazzia qualsiasi atto che può essere in qualche senso grave inconciliabile inammissibile pensate gli ultimi effetti della seconda guerra mondiale milioni e milioni di morti nelle camera gas ebbene è reale secondo Hegel è razionale proprio perché è reale ed è anche morale ecco queste sono le affermazioni di Hegel che fanno pensare fanno pensare e preoccupano preoccupano perché assieme a quelle a quel pensiero attivista di Fichte per cui non è importante tanto quello che si fa ma l'importante è fare l'importante è continuare questa lotta che ci permette e ci deve impegnare a superare il mio voi capite che con la premessa di Fichte e con la premessa di Hegel facilmente la morale l'azione la storia la politica del mondo tedesco è chiaramente indirizzata verso quello che Hegel lo dirà pure sarà guerra la guerra è considerata da Hegel un momento di purificazione di un popolo sono premesse assai pericolose perché se entrano nello spirito di un popolo come oggi nello spirito dei popoli dell'occidente ci è entrata il consumismo il successo la corsa al denaro le apparenze eccetera poi evidentemente questo genera un disfacimento può portare a degli effetti che sono devastanti critica a Schelling provo già a dare una premessa Schelling se vi ricordate parlava di un indistinto da cui si distingue la natura e poi lo spirito a Hegel non piace questo indistinto originario dove tutte le vacche sono nere come può da un indistinto si chiede a Hegel nascere nascere e realizzarsi l'autocoscienza la filosofia oltretutto per Hegel non è sentimento non è esaltazione geniale o rapimento mistico e profetico o contemplazione estetica insomma un qualcosa di indimostrabile di un atto immediato voi sapete che con Schelling la filosofia si era conclusa così la filosofia è rigoroso procedimento razionale quindi questi salti mistici che sono stati erano caratteristici appunto di Schelling non li accetta nell'assoluto Schelling non afforga poi ogni distinzione essere la notte in cui tutte le vacche sono nere un tale assoluto non può essere eccolo qui il principio di ordine di distinzione di finalità che sono invece i caratteri del cosmo vediamo qual è invece la critica a Fichte anche questa ve la posso in qualche modo anticipare come può l'io che è autocoscienza porre io non io in modo inconscio l'io Fichte poi e questa è un'altra critica è infinito ed è quel cattivo infinito di cui abbiamo detto prima per Hegel invece la realtà assoluta è processo il cui risultato non è che un ritorno al principio ecco la differenza con Fichte noi abbiamo una retta è un procedimento all'infinito un continuo porre il non io non io che viene superato dall'io così all'infinito per invece Hegel se si vuole in qualche modo rappresentare geometricamente lo sviluppo dello spirito abbiamo una circonferenza un ritorno un continuo ritorno ma questo vedremo in seguito che è proprio uno dei più grossi problemi della filosofia del sistema Hegeliano e un circolo eterno in cui il principio è nella fine e viceversa si parla poi di coscienza infelice che è questa tanto per Fichte quanto per Schelling esiste una inconciliabile antitesi tra unità e molteplicità vi ricordate che Schelling addirittura nell'ultimo Schelling si era ipotizzata una caduta di Dio che partiva effettivamente dalla sua parte irrazionale dalla sua natura che era inspiegabile razionalmente e che determinava la molteplicità una molteplicità da cui bisognava in qualche modo risorgere e riscattarsi per ritrovare quel e non si riscattavano soltanto gli uomini ma era anche un riscatto secondo Schelling che avrebbe dovuto in qualche modo attuare lo stesso Dio ossia la molteplicità era vista sia da Fichte che da Schelling come negativa quel non io che non si conciliava con l'unità una contrapposizione tra oggetto e soggetto una eredità del realismo laddove oggetto e soggetto sono due realtà distinte e l'oggetto diventa un limite del soggetto un'eredità della contrapposizione tra res estens e res cogitans laddove Cartesio non era riuscito a definire come queste due sostanze potessero in qualche modo comunicare tra di loro e influenzarsi insomma l'eredità di tutta una tradizione filosofica che vede nell'oggetto il limite e evidentemente nell'oggetto anche nella molteplicità Egel vediamo cosa dice quel testo per Egel invece ogni dualismo del genere è scomparso il sistema egeliano vuole essere rigorosamente monistico l'assoluto è l'unità concreta e la sua unità scaturisce proprio dalla guerra in interrotta tra i molteplici che lo costituiscono pensate allora la molteplicità e la tensione non sono più ragione di limite ma è il fondamento stesso dell'unità tesi e antitesi in ogni caso si risolvono nella sintesi e sono costitutivi della sintesi che poi a sua volta diventa tesi e di fronte ad un'altra antitesi si costituisce come fondamento io continuo sempre a fare un esempio e lo riproporrò anche in seguito di chi in qualche modo vuole costruire qualche cosa di grande un grattacielo tra le altre cose c'è il cemento cemento armato ebbene il fatto che l'acqua si unisca con la sabbia l'acqua e la sabbia col cemento apparentemente in un primo momento una è diciamo in qualche modo il limite dell'altra il tutto per la coesione implica uno sforzo ma poi acqua sabbia cemento uniti poi ancora al ferro diventano la sintesi costitutiva la sintesi forte che permette alle fondamenta di esistere ecco allora tesi e antitesi non si contrappongono più tesi e antitesi sono il fondamento della realtà sono la parte costitutiva della sintesi non è più un'esclusione considerato nel suo aspetto soggettivo l'individuale separato dall'universale costituisce ciò che Hegel chiama coscienza infelice se io non riesco a cogliere questa profonda unità del tutto e continuo a vedere gli oggetti nella loro contrapposizione e non supero questa contrapposizione nella sintesi è una coscienza infelice la coscienza infelice è la persuasione del singolo di essere separato dal suo principio universale chiamato Dio ma è evidente che questo Dio non è più il Dio di Avramo Isacco Giacobbe non è più il Dio cristiano e quindi di essere una particolarità insignificante mentre tutta l'essenza tutta la verità tutta l'efficacia si trovano fuori di lui in un Dio che dall'esterno lo schiaccia questa è una coscienza infelice è la coscienza secondo Hegel del popolo ebraico da una parte il popolo obbediente peccatore limitato adultero dall'altra invece il Dio il Dio perfetto il Dio della legge il Dio del decalogo è una coscienza infelice contrariamente a quella del popolo greco che vede l'armonia del tutto sul cristianesimo Hegel ha delle idee abbastanza contrastanti ma poi valutando la figura di Gesù vero Dio e vero uomo vede in questa mediazione la riconciliazione tra l'uomo e Dio cioè una sintesi tra l'uomo e Dio il compito di ritrovare la riconciliazione finale Hegel lo assegna al proprio tempo attenzione guardate che anche questo diciamo è quell'elemento che fin dall'inizio porterà dei grossi problemi a questo sistema perché io dirò poi e anche lo leggerò attenzione che questo sviluppo dello spirito non è uno sviluppo assolutamente temporale ma è uno sviluppo ideale io spero che cosa che si capisca che cosa vuol dire sviluppo sviluppo temporale e sviluppo invece logico no? forse mi sono sbagliato ripeto questo lo sviluppo dello spirito non è uno sviluppo storico temporale ma è uno sviluppo logico logico che vuol dire? vuol dire che nelle pagine successive quando Hegel affronterà il problema dello sviluppo dello spirito che lentamente arriva a questa autocoscienza no? e si riconoscerà come tale questo sviluppo noi diciamo è uno sviluppo logico però allo stesso tempo Hegel assegna alla sua filosofia il compito di aver rivelato finalmente quello che prima non era in qualche modo conosciuto nella maniera esatta nella dovuta prospettiva allora voi capite che se solo con la filosofia di Hegel si è arrivata a questa conoscenza cioè l'assoluto lo spirito conosce finalmente a se stesso e non è più uno sviluppo solamente logico è uno sviluppo storico e il problema di fondo è proprio questo come conciliare uno sviluppo che tu chiami solamente logico che è invece espressamente affermato da te e sostenuto da te anche da un punto di vista storico anche da un punto di vista storico di popoli di nazioni lo vedremo è rappresentato da un determinato popolo che secondo secondo Hegel in quel particolare momento è il popolo tedesco e tutto quello che è venuto prima è stato in funzione di però a questo punto voi capite che se si intendono così le cose si arriva al momento della storia che dovrebbe a questo punto finire sia la ricerca filosofica sia lo sviluppo storico siamo arrivati a capolinea e che non è così la storia è continuata e anche la ricerca filosofica è continuata allora parleremo dunque di sviluppo logico questa ricerca filosofica è una ricerca che porta avanti però in pratica la storia non è esclusa allora andiamo avanti visto dunque che non c'è tesi e antitesi nel senso che le tesi e antitesi rimangono tali ossia non c'è un soggetto e un oggetto che si contrappongono all'infinito visto che non c'è un essere un dover essere ma ciò che è è anche logico è anche razionale ed è anche morale tutto ciò che è è ragione realizzata viceversa tutto ciò che è ragionevole non può non essere realtà ciò che è accaduto o accade è stato giusto che accadesse è giusto che accada ciò che è stato doveva essere i programmi che non sono mai riusciti a tradursi in atto si sono mostrati perciò stesso irrazionali attenzione che adesso c'è il passo fondamentale perché se irrazionale corrisponde al reale la scienza che ha sempre studiato irrazionale cioè la logica visto che il reale è anche razionale diventa anche metafisica se dunque il ritmo del pensiero è lo stesso ritmo della realtà la logica si identifica con la metafisica le categorie sono momenti o forme di un processo che è ad un tempo sviluppo dell'essere e del pensiero quindi contrariamente alla posizione kantiana non sono soltanto le categorie maniere di pensare le cose sono anche maniere di essere bisogna dice Eger restituire alla speculazione la metafisica e ciò che non è possibile e ciò non è possibile se non identificandola con la logica Kant aveva detto che la metafisica non era possibile perché sarebbero applicate le categorie al noumeno e sul noumeno le nostre categorie non possono essere applicate aveva tolto alla metafisica alla filosofia la metafisica e pensate cosa dice Eger un popolo senza metafisica è come un tempio senza santuario qui non soltanto Eger recupera la metafisica ma dice che la logica si identifica con la metafisica allora la legge interna di sviluppo dell'assoluto come si può definire la dialettica è secondo Eger un processo in cui ogni posizione particolare si prospetta anzitutto nella sua necessità per rivelare subito dopo il proprio limite in modo da richiamare una necessaria opposizione ho già accennato prima perché questo spirito si sviluppi perché l'assoluto di Eger si sviluppi Eger deve individuare qual è la legge e la legge viene trovata proprio negli opposti ma non solo negli opposti nel superamento degli opposti vedete questa posizione antitesi controponendosi alla posizione tesi dà luogo ad una superiore composizione alla sintesi che a sua volta è una posizione limitata richiama perciò una nuova posizione tenendo aperto il processo solo il tutto del processo è conchiuso ed è ciò che costituisce precisamente l'assoluto le realtà particolari sono tutti i momenti necessari di questo assoluto tolti invece fuori da esso i particolari sono quelle astrazioni sono quello che abbiamo detto coscienza infelice allora io ho sempre in qualche modo proposto quell'esempio siamo in un cantiere e dobbiamo costruire un grattacielo il grattacielo è l'assoluto lo so che ogni esempio ha Claudi Kant tutti gli esempi zoppicano e Kant diceva che gli esempi erano per gli ignoranti e io sono un ignorante e lavoro con gli esempi zoppicano gli esempi evidentemente lo ripeto siamo in un cantiere ho già fatto un esempio di tesi antitesi la sabbia il cemento che sembrano in qualche modo contrapporsi l'acqua il ferro ma che nelle loro sintesi successive diventano il fondamento di questo grattacielo ma prima ancora di realizzare il grattacielo noi abbiamo dei disegni abbiamo delle mappe laddove si sono fatti dei calcoli da laddove ci sono dei rapporti di forza bene la logica studia questi rapporti che sono tutti i rapporti costitutivi e che permettono al grattacielo di elevarsi tutti tutti i ghiatti dei vari operai quelli cioè che possono contribuire alla costruzione del grattacielo sono sforzi sforzi in cui però tesi e antitesi si sintetizzano e sono quindi momenti che realizzano poi alla fine questa opera grandiosa in un primo momento sembrano opporsi il fatto di avvitare una vite di piantare un chiodo c'è una contrapposizione tra tesi e antitesi il fatto di l'azione di compiere una saldatura la contrapposizione tra ferro e l'opera dell'operario faticosa che poi si sintetizza nella saldatura prese di per sé ognuna di queste azioni è faticosa è difficile e potrebbe essere isolata se io isolo queste azioni ho la coscienza infelice se io mi rendo conto invece che quest'opera dalla più banale ho detto piantare un chiodo è parte costitutiva del tutto è fondamento del tutto io allora mi rendo conto di una verità meravigliosa cioè mi rendo conto di quanto sia importante la mia opera nella prospettiva dell'assoluto anche quella di piantare un chiodo senza quel chiodo l'assoluto non si realizzerebbe in una maniera perfetta quindi la molteplicità diventa il fondamento dell'unità questi sono i pensieri belli belli di secondo me di Hegel perché ci danno un insegnamento l'insegnamento che poi vedremo poi nello spirito nello sviluppo dello spirito questo di unire gli sforzi unire gli sforzi e se poi questo pensiero viene sorretto anche in modo particolare dalla visione cristiana della collaborazione dell'amore evidentemente abbiamo un mondo un mondo di pace un mondo di collaborazione un mondo dove la gente gli individui non sono individui non sono coscienze infelici ma vivono in una comunione di affetti e in una comunione di una comunione operativa ritorniamo questi però sono i miei pensieri tenete però come 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 illustrazione questa costruzione di un grattacielo da una parte i disegni dall'altra il materiale e poi la realizzazione finale andiamo avanti però la logica hegeliana identificandosi con la metafisica vuole essere una nuova logica opposta a quella aristotelica tradizionale come logica del concreto non più logica dell'astratto continuiamo sempre con quell'esempio pensate per un momento fate attenzione ad una cosa non è che la logica di aristotele venga annullata la logica di aristotele ha una sua funzione ma non è la logica definitiva non è quella logica che mi permette di conoscere nella complessità lo sviluppo dell'assoluto dello spirito è come se io in qualche modo di fronte all'operaio che sta costruendo il grattacielo mi mettessi ad analizzare i suoi sforzi le sue fatiche in qualche modo valutassi le energie consumate mi sta bene lo posso fare la logica aristotelica serve per analizzare la tesi o l'antitesi separate rispettivamente dalla loro tesi e dalla loro antitesi su questa prospettiva è ineccepibile la logica di aristotele e si fonda sul principio di eguaglianza di non contraddizione si fonda sul sillogismo va tutto bene però una volta posta questa logica deve essere superata e la logica che viene proposta è la logica del concreto che dopo aver fatto tutte le analisi possibili della sintesi della tesi in sé o dell'antitesi in sé poi coglie la sintesi del tutto quest'ultima è incapace la logica dell'astrato cioè di aristotele di afferrare la realtà di esaurirne il contenuto appunto perché astrae dal contenuto stesso della vita la logica tradizionale considera ogni singolo concetto come chiuso nei suoi limiti logici avulso dal tutto mentale e di cui è parte dominato pertanto dai due principi dell'identità e della non contraddizione nella nuova logica vi ricordate la non contraddizione quando uno dice A è uguale a A A è uguale ad A e non può essere uguale a non A Hegel arriva al punto di dire A e non A non è che siano uguali ma trovano la loro realizzazione in una sintesi che supera la contrapposizione di A e non A ecco la novità no? L'intelletto non ponendosi dal punto di vista del tutto secondo attenzione anche qui come vengono usate le parole secondo Hegel Aristotele procede con uno strumento ben preciso che è l'intelletto secondo Hegel invece lui utilizza un altro strumento che è la ragione vediamo l'intelletto non ponendosi dal punto di vista del tutto e dell'assoluto trova i suoi oggetti come dati e li considera dall'esterno ma la funzione della filosofia è precisamente quella di farci uscire da questa situazione guardando le cose non più come intelletto bensì come la ragione quindi quella logica dell'astratto ha come fondamento e come strumento l'intelletto la logica del concreto che quella di Hegel ha come strumento la ragione quella ragione che era stata condannata da Kant come quello strumento che sbagliava le sue applicazioni nel momento stesso in cui voleva applicare le categorie al numero la ragione la quale avendo le stesse dimensioni dell'assoluto non cerca gli oggetti dall'esterno ma li produce dall'interno dell'assoluto medesimo ma questa è una cosa che vediamo dopo dunque la logica aristotelica non serve o meglio serve soltanto in quanto la si applica alla tesi o all'antitesi non alla sintesi non vuol dire come questo guardate che non c'è nulla nulla secondo Hegel nella storia della filosofia che non serva da un punto di vista assoluto tutte le filosofie che lo hanno preceduto hanno riflettuto e sono servite per arrivare secondo Hegel alla sua filosofia dunque anche questa posizione di Hegel è molto importante anche se è presuntuosa Hegel dice io con la mia filosofia alla fine ho trovato la sintesi di tutto e tutto quello che è stato detto prima tutti i sistemi filosofici precedenti sono in funzione di sono in funzione della mia filosofia è un atto evidentemente di presunzione però dall'altra parte Hegel nella sua storia ha scritto anche la storia della filosofia ha colto evidentemente nella sua prospettiva anche forzandoli no ma ha colto dei collegamenti e quello sviluppo che a volte sfugge e sfugge specialmente oggi quando invece di intendere le cose in una prospettiva storica noi vediamo che si costruiscono delle cattedrali no delle cattedrali nel deserto cattedrali proprio quando si dice adesso io mi metto a affrontare la filosofia di Kant e sto lì cinque o sei mesi su Kant oppure che ne so parliamo di un'altra filosofia senza cogliere quello che è stato prima di Kant e senza cogliere quello che sarebbe stato dopo di Kant è un modo di procedere abbastanza privo di fondamenta manca manca in questa prospettiva la visione di insieme ecco Hegel ci permette in qualche modo di affrontare gli avvenimenti storici in una prospettiva dove si vedono le concatenazioni quindi sia nella prospettiva storica che nella prospettiva filosofica inoltre poiché per Hegel tutto ciò che è razionale eppure reale la logica avendo come oggetto la ragione intende le categorie non quale puri e semplici modi soggettivi di conoscere il mondo ma quali principi cosmici ripeto di nuovo quell'esempio io valutando i disegni per la costruzione di un grattacielo non vedo in quei disegni solamente dei rapporti logici ma vedo quelle regole quelle leggi generali che mi permettono costitutive di quella di quella cosa che voglio costruire di quell'opera che voglio costruire come costitutivi della sua realtà cioè se queste leggi scritte in un primo momento sulla carta non ci fossero neppure il grattacielo potrebbe sussistere ecco la novità poi ripeto gli esempi hanno sempre i loro limiti eh già Kant aveva parlato di dialettica eppure lui aveva segnato il carattere contraddittorio delle idee costruite dalla ragione si era parlato di antinomie no? dell'anima il mondo e dio insomma la dialettica kantiana considera tesi e antitesi come escludentesi a vicenda Hegel le media attraverso la sintesi cosa vuol dire qui che non è non è forse abbastanza chiaro perché ho saltato dei pezzi nelle antinomie Aristotele aveva proprio fondato sulla contraddizione o contrapposizione delle soluzioni eh che la filosofia eh aveva eh individuato lungo i secoli la ragione per dire la metafisica non può sussistere vi ricordate a proposito eh della dell'anima del mondo diceva una filosofia mi dice che il mondo è infinito l'altra mi dice che il mondo è finito una mi dice che è vicino alla alla concatenazione meccanica c'è anche una libertà l'altra invece mi dice che tutto è concatenazione meccanica uno mi dice che il mondo è divisibile all'infinito l'altra mi dice che è formato da attime non è divisibile all'infinito allora su queste contraddizioni Kant dice vedete che la filosofia non può affrontare problemi che noi normalmente definiamo di carattere metafisico per Hegel invece è il contrario nelle contrapposizioni in quelle apparente contraddizioni c'è il fondamento della verità c'è uno sviluppo successivo tesi antitesi mi dà la sintesi allora lo stesso ragionamento che Kant aveva adottato per dire non è possibile una metafisica lo stessa osservazione delle contrapposizioni che si verificano nella storia diventa invece per Hegel il fondamento della sua stessa filosofia c'è un'opera che viene intitolata fenomenologia e vediamo un momentino in che cosa consiste anche se questo passaggio poi viene ripreso dall'opera fondamentale di Hegel è la via che quello stesso principio ha dovuto percorrere attraverso la coscienza umana per giungere a se stesso vedete per me rimane sempre il problema di fondo cioè lo spirito arriva a conoscere se stesso attraverso l'uomo un po' come aveva detto Schelling questa piramide al vertice della quale si trova l'uomo quindi questo esplicarsi questo svilupparsi ha avuto un procedimento che è storico non lo si può negare e nella fenomenologia Hegel presenta proprio questo spirito nella sua lotta drammatica per raggiungersi e conquistarsi nella sua infinità la fenomenologia è la storia romanzata della coscienza che attraverso eramenti contrasti scissioni e quindi infelicità e dolore esce dalla sua individualità e da quella che abbiamo detto che viene definita da Hegel coscienza infelice arrivando alla coscienza di essere tutto vi ricordate quell'operaio che pianta un chiodo che fatica piantare chiodi tutta la giornata però quel chiodo è coscienza di essere una parte indispensabile al tutto secondo Hegel questo lo sviluppo e lo si ha in tre momenti ben precisi il momento che viene definito della coscienza poi abbiamo l'autocoscienza e infine la ragione nella coscienza noi abbiamo la conoscenza dell'oggetto quindi di un oggetto che sta di fuori di noi e che lo vediamo contrapposto a noi come limite al noi all'io poi e quindi l'oggetto è il realismo il dogmatismo l'oggetto diventa il continuo antagonista del mio essere poi si arriva la conoscenza la conoscenza di sé e ciascun individuo vuole farsi conoscere dall'altro come qualcosa di assoluto ciò dà luogo alla lotta per la vita per la morte e sono la storia delle guerre nei secoli pensate questa tensione all'infinito pensate ai grandi definiti magni della storia che non si sono mai da Gengis Khan a Alessandro Magno a Carlo Magno alle cose più alle brutture più terribili a Napoleone a Hitler questo desiderio di conquista di assoggettare le genti di assoggettare altri popoli e non si riesce a trovare mai un limite uno dice ma insomma è arrivato è riuscito no terminato una guerra ne inizia un'altra poi in realtà queste guerre sono presenti un po' in tutti gli esseri umani che cercano in qualche modo di imporsi all'attenzione degli altri e questo è il momento dell'autocoscienza laddove il soggetto vuole imporsi all'altro come qualcosa di assoluto ma c'è un terzo momento che è la sintesi laddove io vedo nell'altro un me stesso vedo vedo nell'altro la possibilità di potenziare questa condizione che ci vede in un primo momento separati e antagonisti e nella collaborazione nella sintesi noi superiamo sia la condizione di coscienza dove l'oggetto aveva la supremazia sia la condizione di autocoscienza anche questo per me è bellissimo anche questa è una posizione molto bella perché si capisce quanto siano importanti gli altri quanto sia importante io e nella sintesi noi troviamo la nostra forza questo è il momento che è la sintesi di due precedenti nel primo dei quali la coscienza si subordinava alla cosa mentre nel secondo affermava unilateralmente se stessa il rendersi conto di essere ogni realtà è per la coscienza un'affermazione di attenzione idealismo non soggettivo non c'è più il soggetto che si impone in qualche modo quell'idealismo che afferma che gli oggetti sono il prodotto della nostra soggettività non quindi un idealismo soggettivo ma un idealismo assoluto secondo cui quella stessa realtà che di fatto si attua nella ragione si pensa per cui in questa sintesi che porta ad una condizione di altro genere e che noi potremmo anche definirla di collaborazione attenzione però che non è un nome adottato da Hegel di collaborazione noi troviamo finalmente la realizzazione di noi stessi ecco la prossima volta affronteremo l'argomento di fondo che è il sistema stesso guardate che la fenomenologia fa parte di questo stesso sistema che poi viene ripreso da capo fino a arrivare al culmine della sua perfezione per favore per favore